Ore di paura per Massimo Mauro. L'ex giocatore di Napoli e Juventus, e opinionista televisivo, è stato colto da infarto e operato d'urgenza nell'ospedale di Catanzaro, dove gli è stata praticata un'angioplastica. Mauro, 61 anni, si trovava in vacanza in Calabria nel Catanzaresse. Ha avvertito un malore mentre giocava a Padel ed è stato prontamente soccorso. Secondo fonti vicine al calciatore, la prima impressione è stata quella di trovarsi di fronte a una banale indigestione, ma ulteriori accertamenti hanno certificato che si trattava invece di un infarto. L'ex calciatore ha tranquillizzato fan e familiari attraverso la sua onlus, la Fondazione Viali e Mauro per la ricerca e lo sport. In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato ha sottolineato Mauro. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.